Allora, ringraziamo innanzitutto il comune di Parchelia che ci dà questa grande opportunità di sviluppare l'arte contemporanea in Calabria sul tema dell'ambiente. Il Centro Arte Castel Gandolfo è lieta di poter partecipare e dare un contributo in questa terra bellissima che è la Calabria. Quindi vi aspettiamo tutti per visitare questa mostra di arte contemporanea dove ci sarà anche la seconda edizione della performance Il Corpo si fa tela che è una nostra esclusiva e porteremo per la seconda volta qui a Parchelia. Quindi che dire, ringrazio tutti e vi aspettiamo dal 7 al 10 giugno. Grazie a tutti.